Ci si preoccupa sempre di più di informare e preparare soprattutto i genitori su quelle che sono le mosse di disostruzione pediatrica, c'è poco tempo d'azione, il rischio è molto alto e così anche Montesilvano scende in campo e chiama i suoi primari per dare quello che è un vademecum di quello che bisogna assolutamente fare. Un intervento attento, adeguato, può salvare la vita nel 90% dei casi di intervento. Se il bambino ha tosse bisogna lasciarlo tossire e favorire la tosse, simulare laddove il bambino non tossisca il meccanismo della tosse in modo da favorire la fuoriuscita del corpo estraneo. Questo va fatto mettendo il bambino con la testa in modo declive leggermente e esercitando, dando cinque colpetti partendo col palmo della mano e con una certa energia in sede interscapolare con la mano sfuggente verso l'esterno, quindi lateralmente e cinque colpi decisi nel corso dei quali in genere accade che il bambino riesce a espellere il corpo estraneo. Altri due punti importanti saranno toccati, da un lato c'è il sonno sicuro per il neonato e dall'altro la sindrome di morte improvvisa. Diciamo di tenere il bambino a dormire sempre prono, mai a pangin giù per capirci e se è possibile mai di lato. Diciamo alla mamma di allattare, le consigliamo, anzi le vietiamo di fumare o di usare alcolici perché è una delle situazioni dove si è visto che il bambino ha più frequenza di morte improvvisa. Diciamo di tenere la temperatura della stanza non caldissima, non molto calda, di non coprirlo troppo, di non usare il cuscino, il materassino deve essere duro, cioè di evitare tutte quelle situazioni che potrebbero in qualche modo ostruire le vie respiratorie del bimbo.